Radio Wi-Fi e Guglielmo Marconi, un collegamento c'è anche se senza fili. Si celebra oggi 27 luglio il 121esimo anniversario dal primo esperimento radio ufficiale portato a termine da Guglielmo Marconi. Era il 1896 quando tra il Ministero delle Poste di Londra e un apparecchio Morse posto a poco più di un chilometro di distanza fluttuava il primo messaggio radio. A ricordare questo grande nome, spesso sottovalutato per l'impatto che ha ancora i nostri giorni, il Museo della Radio di Verona, che oggi, per il secondo anno consecutivo, ha voluto rendere omaggio all'inventore con il personalissimo Wireless Day. Marconi attualmente è la connessione mondiale, Marconi è italiano, il Wireless Day italiano è stato inventato il 27 luglio di 121 anni fa. A Marconi il mondo deve molto, in quanto è il precursore del web e di tutti i social media. Dobbiamo assolutamente tutta la velocità di comunicazione, la possibilità di poter comunicare in un secondo da una parte all'altra del mondo, la possibilità di essere così attuali, così veloci, così multimediali. Un matrimonio tra storia e tradizione lo definisce l'ideatore dell'applicazione presentata oggi in provincia Verona. Un'applicazione che sfrutta la tecnologia Beacon e che sarà applicata proprio al Museo della Radio. Adesso il proprio smartphone che abbiamo sempre in tasca di utilizzare questo e appunto ricevere direttamente le notifiche, quindi un video, un audio oppure un scritto direttamente dell'opera d'arte di cui siamo davanti.